Ciao a tutti sacciotti e benvenuti a questo nuovo episodio di Minecraft ho raccolto un bel po' di sandstone infine ho piu facile raccogliere la sandstone perchè arrivati ad un certo punto dalla altezza della montagna c'è meno sabbia e c'è più sandstone quindi basta andare lì col piccone ha il senso che si spacca in una maniera troppo facile tipo a bestia guarda e questo è solo un efficiency 4 e vorrei far notare quindi proprio non ha bestia di più ora qua sto completando si dovrebbero bastarmi abbiamo finito la piazza che mi avete detto che sembra un testicolo mi avete detto che sembra anche un testicolo in realtà ma le opzioni meno pervertite sono un fagiolo o un rene e si effettivamente potrebbe sembrarlo dato che ha preso questa forma stavo pensando se al posto di fare una fontana centrale come vorrebbe fare una fontana lì e una fontana lì e magari qui metterci una statua ora statue sono difficili da fare soprattutto angolate perché dovrebbe essere una cosa messa in diagonale quasi oppure dovremmete tipo qua la statua una fontanina qua però dato che qui abbiamo la curvatura questa curvatura semicircolare che è molto semicircolare penso 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 che qua ce n'è molto bene una fontana qui un po' meno perché qua abbiamo tutti sti segmenti qua abbiamo un po' di tondeggiante però non è troppo capito esatto ok allora come faccio spesso ho cercato ispirazione su internet google immagini minecraft più l'argomento in questione è davvero davvero molto utile se anche voi avete un blocco mentre avete un blocco mentre costruite su minecraft l'hai capita l'hai capi ma l'hai capi ok se avete un blocco mentre no ok basta dire da solo è davvero utilissimo andare a cercare ispirazione come quando avete un problema andate a vederlo chi l'ha già risolto e prendete ispirazione o la maniera più facile copiata direttamente allora volevo fare qualcosa di un po' più grande questa volta ho trovato un canale su youtube di cui non vi dirò ancora il nome perché non me lo ricordo al momento ma è un canale che abbastanza piccolino inglese ha tipo 6.000 iscritti però vi faccio vedere una una statua che ha fatto sto tizio è complicatissima no non è questa questa è quella che devo fare ora è complicatissima ed è la statua di un drago ora così potrà fare anche cagare ma con tutte le ali è una figata tipo per fare solo sto pezzo di ala per capire come cazzo farlo ci ho messo tipo 3 minuti a fare solo 3 minuti sono tanti e per piazzare quanto 30 blocchi sono tanti e tanti ma però verrebbe una figata in realtà l'ho già modificato rispetto alla versione originale perché mi sa che aveva pochi blocchi in quella versione di minecraft che utilizzava lui però adesso andiamo ad utilizzare questo tipo di struttura che è più piccolina naturalmente e diciamo che svolge meglio l'utilizzo per cui è destinata nel mio mondo cioè fare da statua in una piazza come vedete c'è qua il la fence che fa tipo da manico della spada questo è un guardiano con delle mani su un manico di una spada inizialmente questo dovrebbe essere vetro ma non mi piaceva quindi ci ho messo le sbarre di ferro e lo andiamo a costruire proprio in questo momento una cosa a cui pensavo è che magari mi converrebbe farlo di sandstone perché mi direte voi ma è sandstone perché qua è tutto sandstone e se ci metto degli stone block degli stone brick ho come l'impressione che potrebbe stonare stone brick stonare no ok oggi proprio no vero surreal non bastava dirlo sud non è che vabbè vabbè quindi è in diagonale quindi quello che cercavamo e lo metterei più o meno qui ok ok qui ci sarebbe tutto il resto e saliamo di 1 2 3 4 5 ok questo deve fare un blocco in meno e arrivare un blocco qua mi sa che convenga converrebbe mi sa che converrebbe non che inconvenga eh no potrebbe andare non lo so non lo so fanculo fanculo quindi un blocco in meno sono 3 4 fanculo 3 4 5 ok ora da qui abbiamo bisogno di scale oh non giusto 2 però ora abbiamo un problema oh shit ok ecco la mia considerazione per mettere i piedi cioè le scale devo rompere questi due blocchi però se rompo questi due blocchi sembra tipo una versione nana tipo una versione dell'hobbit quindi non lo so bisogna vedere ehm per quanto riguarda qui invece dovremmo aver bisogno solo di dei blocchi pieni lì e un paio di scacale 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 ah ah 4 scacale dovrebbero essere apposto perché ne metteremo due così romperemo questo blocco e questo blocco e metteremo le scale a cui si exactly perché altrimenti la fence che andremo a mettere qui non si attaccherebbe non sembrerebbe più umani come sembrerebbe beh non so cosa sembrerebbe però sembrerebbe lo sembrerebbe lo sembrerebbe no è inutile che dici no lo sembrerebbe ti dico che lo sembrerebbe ma lo sembrerebbe non so poi a cui solo ci mettiamo la testa ovviamente i legni i legni gli occhi li farò di legno e andrei a dormire sai che cazzo sembra non so se qualcuno di voi ha mai giocato al gioco che si chiama la casa magica è un giochetto che tipo è uscito quando il mio primo pc ce l'ho avuto tipo negli anni 2000 cazzo avevo 4 anni però vabbè e mio papà quune sere tornava a casa con con delle riviste dei di videogiochi che costavano anche un botto ai tempi tra l'altro ma era l'unico modo per avere giochi perché non ci non si aveva internet anzi si poteva avere internet ma costava tipo peggio del mutuo della casa e robe così quindi era l'unico modo e mi ricordo che c'erano questi dischetti con mille e mila demo e una volta mi portò a casa mio padre un dischetto di un gioco completo ho detto cazzo un gioco completo che cazzo è sta cosa era un giochetto di un'ape che andava in giro per una casa non mi ricordo neanche la trama però c'erano e tutto tipo questa casa era popolata da insetti ed era tipo un macro mondo anzi un micro mondo in cui tu sei una macro ape e c'era sto uno dei primi personaggi era sto scarafaggio che viveva nel camino che vendeva hamburger panini insomma e non so perché ma mi è venuto in mente guardando sta cosa ok non chiedetemi perché ok non lo so ma se qualcuno di voi attacchi shit ora se quello non è un ninja esplosivo dimmi te che cazzo è testa di cazzo e ancora mi manca anche una scala se non mi incazzo guarda se non mi incazzo mamma mia dove cazzo è uscito quel creeper i creeper non dovrebbero poter spawnare in acqua testa di cazzo ok grandissima testa di cazzo ma più testa di cazzo to come nuovo suca se stavo dicendo esatto si vado a prendere il resto dei materiali e probabilmente anche un po di vine perché non so quante vine io abbia ma ora che ci penso non ho nemmeno un modo per ottenere le vine perché gli alberi qui dato che sono in una foresta non hanno le vines e no i vines non sono i video di facebook cioè lo sono ma il termine proprio corretto per vines è tipo liana si dovrebbe essere tipo liana spero di avere qualche vine please 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 nooo no 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 nooo aspetta almeno dammi questo grazie almeno un po di cosa ma fai invece tutte queste pare che alla fine non usate per via della senza che si trova più rapidamente e dammi 3 di queste o 4 vabbè prendiamo le 4 non ci so mai ci mancano le vines ci mancano le vines ma ti rendi co 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 conto ma ti rendi cant 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 conto e non ci posso credere mancano mancano le vines mi manca mi mancavano le vines ma io non lo so non è che vrent è entrato così nel mondo mi hanno guardato tutte le vines perchè io mi ricordo io ce l'avevo no non ce l'avevo cazzo dico però è comunque colpa di vrent ah se è colpa di vrent no no lascia stare è un giorno di questi lo querelo no 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 lascia stare poi finiremo in tribunale già lo so perchè gli dirà no non sono stato io e io arriverò lì andrò dal giudice e gli dico ma signor giudice lo sanno tutti che è colpa di vrent e vincerò così la causa eh poco realistico dite? erano tre aspetta non vorrei che avessi fatto male le cose mi sembra un po troppo sfasato in effetti vabbè ora vedo ecco perchè mi sembrava scarafaggio mi mancavano le spalle ma porco giuda escariota e pure peto petomani ah si ora si che è più imponente ora sembra una tartaruga però cazzo fai cheese piccola tartarughina fai cheese cheese ok ok sapete cosa sapete cosa sapete cosa sapete cosa ma sapete sapete ma non è che è esatto potremmo usare sta cosa qui potremmo usare sti blocchi qua prendere il tutto più figherrimo uno uno ma vaffanculo ma vaffanculo vediamo come oh potrebbe essere figa come cosa ah ho visto che è ricaduto il governo ma boia vacca basta ragazzi tutti tutti in germania tutti in inghilterra andiamocela in spagna che almeno il linguaggio è simile ok allora mancano i blocchi la sopra in effetti basta far così così la testa però io la dimango perché altrimenti dovrei anche riprazzare i bottoni e non c'è voglia dammi tutta la roba ti dico dammi la cosa dammi la roba vabbè mi è convinto ti cambio anche la testa mamma mia come sei persuasivo ok boom 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 ti dico boom boom eh eh la testa si i gomiti si ma il resto no questo va in senso normale penso che potrete concordare con me perché il fatto che ci sia la texture che si ripete che non si ripete anzi che si ripete e non è una cosa unica lo rende una cosa poco bella da vedere ah ci sono ancora blocchi qua boia vacca ladrissimissima eh si meglio poi considerando che ci saranno le liane si si ok allora ora parliamo di fontanee fontanive fontanae 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 potrebbe avere queste dimensioni ma il sicuro verrebbe spostata o almeno io la sposterei perché la sposterei perché io so da un centilo no non c'entro il cazzo la farei tipo 1 2 3 giusto per mettere 1 2 3 per creare il giusto spazio tra le mura e ma a sto punto lo sposterei anche uno qua boia vacca boia vacca boia vacca wait a moment ok direi che questa come posizione può andare può andare eeeh i was thinking about something you know thinking about something yeah ok eeehm farla mediamente alta non troppo né troppo poco bisogna fare in modo che prima cosa sia in sintonia con l'altra fontana che possibilmente metterò qui qua in mezzo c'è una strada perché ora come ora è tutto troppo monotono abbiamo messo la strada qui quindi le due fontane lì tutto l'ideale per mettere una strada qui strada che verrà fatta in birch wood quello la bianco perché ci sta perfettamente è fighissimo con la sandstone e ci sta bene con la sandstone anche il legno questo tra l'altro non so se se sapete non so se sapete io eeeh eeeh è un contrasto molto molto figo eeeh ho la scetta si ho la scetta cos'è la scetta ah non lo so hashtag scetta basta pigli per il culo e e e e e ho l'acqua qui vicino quindi non dovrebbe manco essere un problema fare la fontana in sé per sé allora come blocchi sotto penso ci metterò o della pislazulo ho finito la palla pigli per il culo no ok o della pislazulo ooo o del legno perché con la con la senso ci sta proprio da zio una fettina una fattina una fontana il fattino eeeh eeeh what else what else what else what else what else what else niente penso la farò relativamente semplice e voglio provare a mettere manco dei contorni proprio avere tutta l'acqua qui figa figa faga faga legno tutto intorno quindi ecco questo potrebbe prendere un po' di tempo perché non ho la pala ho dei bastoncini? solo uno cioè manco della serie no tu non avrai modo semplice di craftarti una pala perché altrimenti sarei troppo gentile con te surreal e io in quanto minecraft devo essere tronfo con te perché altrimenti non mi divertirei perché anche un poco si deve divertirei cazzo sto sputando su questa schermannina che merda eeeh ok un altro pochino di legno e siamo a posto e a posto col cazzo devo anche fare questa parte sotto vabbè ma qua faccio slab perché non voglio sprecare il legno però posso sprecarlo perché ne ho appena preso infinito devastando quest'area quindi lo farò oh si se lo farò ok molto stile sauna sauna? non lo so si 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 ma quasi una sauna in effetti avete presente che le saune sono tutte fighe fighe effrime con tutto tutto in legno no? abbastanza faigo come cosa comunque vado a dormire riempio la vasca da bagno che poi non è una maschera da bagno ma è una fontana ma quelli sono dettagli che a nessuno interessano spero perché se ti interessa un dettaglio del genere ti prego no non so dovevo dire qualcosa non di figo ma mi sono dimenticato la memoria vivo la memoria ok ok aspetta sono le otto di sera sono le otto di sera sono le otto di sera mia sorella ha avuto tutto il pomeriggio per suonare il cazzo di flauto ha aspettato che son tornato a casa e che ho iniziato a reccare minecraftita per suonare il cazzo di flauto cazzo ha aspettato sullo schermo dai bitch ok quindi ora abbiamo il nostro pozzo d'acqua qua dobbiamo fare in modo tanto di avere dell'acqua vabbè posso prendere anche l'acqua cazzo faccio e dobbiamo andare in alto quanto in alto non lo so direi che così può abbastare magari uno più in basso ma non vorrei che fosse troppo in basso poi no penso che possa abbastare posizioniamo l'acqua eliminiamo la terra ma togliendo l'acqua dovresti essere aggiornata amica mia dicevo ti dovresti stavo dicendo lo prendiamo così aspetta ah ok boom prendiamo un po' di acqua ok quindi qualcosa di estremamente semplice ma talmente semplice che anche la semplicità potrebbe vomitare però era questo lo scopo creare qualcosa che non distorga troppo l'attenzione abbiamo qua la statua che distorge già l'attenzione in effetti però qua metteremo un'altra fontanella qui farò partire la strada per esempio farò una piccola fontanella qui quindi avremo due fontanelle una statua direi che va bene direi che va bene direi anche che per questo episodio potrebbe essere tutto potrebbe essere tutto oppure faccio l'altra fontana aspetta vedo che lo sono precisamente se avessi avuto una palla avrei fatto la seconda fontana ma non ce l'ho quindi vi saluto io vi saluto per la seconda volta vi aspetto nel prossimo episodio vi ricordo che ho una pagina facebook che se non seguite il canale dovreste 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 iscrivervi mettere mi piace alla pagina facebook non sono cose che dico così a macchinetta sono cose ponderate la serie seguite la pagina facebook così non perdete non vi perdete i video che volete avete aggiornamenti su raduni giveaway e merde varie e vabbè l'iscrizione a youtube invece tanto youtube non funziona quindi cazzo lo dico a fare vabbè per potenziali video nei vostri feed quindi vi aspeto con presente video